buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova pillola breganzese il mio compito oggi è quello di parlarvi della famiglia bevilacqua e dell'azienda di macchine agricole omonima che si identifica sostanzialmente con la figura del fondatore costante bevilacqua questo vuole essere un esempio fra i tanti che possiamo sicuramente individuare nel secolo scorso di figure di persone che hanno sacrificato una vita per un ideale o per un progetto imprenditoriale come in questo caso valorizzando e facendo conoscere il nome di breganze sia in italia che all'estero il suo fondatore in realtà nasce a fontaniva in provincia di padova nel marzo del 1908 a vent'anni e gli trova lavoro come autotrasportatore presso una ditta di tiene e da quel momento i suoi interessi gravitano nella zona di breganze tanto che conosce sua moglie in circostanza del tutto occasionali ma durante i lavori di ricostruzione del ponte sull'astico che era crollato agli inizi degli anni 30 poi viene mandato sempre per lavoro a san giovanni in fiore in calabria e lì potrebbe rimanervi salvo che ecco conosciuta la prima guerra mondiale non avesse conosciuto anche la seconda e venne mandato come marconista in libia viene poi esonerato dal servizio militare perché primo genito di famiglia contadina egli non si perde d'animo torna dalle nostre parti e va a lavorare presso la ditta bischio di tiene e quindi successivamente lavora presso la pietro laverda di breganze questo sicuramente è un passaggio molto importante infatti acquisisce una relativa tranquillità economica compere a casa e la famiglia la famiglia cresce però nel suo animo di artigiano egli riflette e decide di mettersi in proprio sono anni quelli straordinari del dopoguerra dove chiunque avesse voglia di lavorare poteva dare sicuramente un contributo alla rinascita del paese apre quindi una prima attività che è un'officina meccanica con pompa di benzina è un binomio che in quel periodo era veramente costante nel momento della ricostruzione del paese stesso e successivamente una carpenteria meccanica dove andrà a produrre dapprima stufe elementi per stufe che anche quello era un settore in grande in grande sviluppo e poi puntali per le scarpe sono anni molto impegnativi che mettono al lavoro non solo costante ma tutta la famiglia le ore appunto dedicate al lavoro sono veramente tante durante la giornata però i risultati si fanno vedere costante a quel punto chiede alla pietro laverda che in quel momento era in piena espansione di concedergli il subappalto di alcuni elementi di produzione e la pietro laverda gli accorda il lavoro va bene ed egli realizza costruisce il primo obbificio in via chizzalunga a breganze li comincia a costruire a realizzare anche dei prodotti da sé per così dire come una pigiatrice per uva che ha una distribuzione davvero inaspettata in molti mercati in molti mercati d'italia e comincia lì a produrre quello che è il suo diciamo prodotto più importante cioè il carica e scarica foraggi da quel momento la figura la presenza della bevilacqua presso le fiere agricole di bologna di verona e le più importanti d'italia sarà costante la produzione dell'autocaricante è fondamentale perché anche questo è un esempio di meccanizzazione agricola in quel periodo nel quale c'era bisogno di sollevare le famiglie le famiglie contadine da lavori da lavori molto gravosi e l'autocaricante è una macchina appunto che raccoglie il foraggio e solleva sicuramente fa il lavoro per così dire di tre quattro di tre quattro persone contemporaneamente pensate che la prima azienda agricola ad acquistarla fu la savardo di breganze a suggellare proprio ormai l'unione tra l'azienda bevilacqua e il paese d'adozione poi sono state molte le famiglie le ditte che hanno cominciato ad acquistarla ma il mercato poi si è sempre più sviluppato nell'italia in europa e nella fase finale dell'azienda addirittura a livello extraeuropeo sono anni di grande sviluppo quelli che obbligano il titolare dell'azienda ad avvalersi di una rete commerciale sia in italia che all'estero in particolare in italia si farà riferimento a quelli che sono i consorzi agrari che erano uno straordinario ponte di connessione tra colui che aveva bisogno di acquistare una macchina e quella che era la produzione diciamo che la provincia di vicenza in quel periodo passa da essere una provincia a carattere prettamente agricolo ad essere una tra le prime province a livello produttivo industriale in italia e nonostante tutto per rimanervi anche ai giorni nostri per l'azienda bevilacqua si assiste ancora una volta a un'espansione e si arriva a una produzione che è molto ampia e variegata si passa quindi da una spannocchiatrice per mais ad accessori come la barra falciante la rotopressa per foraggio e paglia per passare i cari caletame fino a macchinari più grandi come i carri botte e gli auto caricanti per foraggi nel 77 essendo non più idonei gli ambienti di lavoro di via chizza lunga breganze l'azienda si sposta con l'ultimo sito produttivo a sarcedo in quella in quella zona che poi sarà proprio di fronte alla nascente superstrada tiene bassano le maestranze raggiungono il massimo storico di 36 unità l'azienda a quel punto è assolutamente matura si passa dalla si parte dalla produzione per passare si parte dalla progettazione per passare la produzione e quello che è il post vendita finale con la manutenzione in zone che passano dalla ragione veneto fino come si diceva a tutta l'europa il 6 giugno 1984 costante bevi l'acqua muore all'età di 76 anni e nel 1989 l'azienda chiude definitivamente l'attività siamo in un periodo agli albori di quello che quel fenomeno che verrà chiamato globalizzazione e che noi in questo momento storico conosciamo conosciamo purtroppo tristemente però a distanza di più di 30 anni ancora adesso ci sono delle degli auto caricanti bevi l'acqua che lavorano in campagne in italia e anche all'estero oppure si possono trovare in siti internet specializzati di macchine agricole usate questo significa che il lavoro che ha fatto costante bevi l'acqua a suo tempo è stato sicuramente è stato sicuramente ben fatto grazie e alla prossima pillola breganzese ciao